il ministro degli esteri rinsalda il vecchio legame con salvini sull'allentamento delle misure restrittive con loro c'è il presidente emiliano in barba alla linea prudente del pd ma se passa la linea madrilena il vero vincitore è draghi con il suo rischio ragionato il mosaico di fusi per un ministro degli esteri conoscere le lingue è senz'altro un vantaggio così luigi di maio poggia sulla sua scrivania alla farnesina una cartina geografica dell'europa e volge la testa sinistra fermando lo sguardo sulla spagna vede che c'è un buco politico che si chiama podemos che ha consumato tutto il patrimonio degli indignatos prosecutori madridisti del vaffa ormai d'antan mentre si staglia la figura di isabel dia zaiuso popolare di nome di fatto e di voti e si rivolge al suo staff toc de queda no mas tradotto per chi non ha letto servante sin originale coprifuoco meglio di no così il 16 maggio rischia di diventare la data che sana una vecchia ferita che altri hanno cosparso di sale mentre i protagonisti del primo governo della legislatura hanno curato giorno dopo giorno evitando la suppurazione è il giorno che il consiglio dei ministri può scegliere per rallentare o addirittura abolirei coprifuoco misura emblematica dell'emergenza sanitaria giunta vicina al traguardo dell'archiviazione dal punto di vista sanitario e della vita dei cittadini sarebbe la conferma emblematica del cambio di passo nell'azione epidemiologica anti covid politicamente potrebbe rappresentare il riavvicinamento tra salvini aperturista principe ed imaio esponente del partito ex premier compreso che più di tutti contro il capitano si è scagliato facendo diventare quella scelta identitaria del conte 2 e dell'alleanza con pd il riferimento alla spagna è tutt'altro che casuale perché la iala stravinto proprio su una linea aperturista di maio a cui non manca un certo fiuto politico si è messo a scia e poco importa se qualcuno nel movimento storce la bocca la linea oltransista del tutto chiuso non funziona più i cittadini oramai non la sopportano pur se molti di loro sciaguratamente rinunciano a rispettare elementari e fondamentali misure di sicurezza dalle mascherine al distanziamento